Sono i 29, sono i 30 Sono i 30 Sì ma ancora dicono c'è troppa gente No, no, si sono i 30, può entrare chi vuole No, perché questi mo si inventano che siamo troppi Sono le 10.31, dica a Sisto che ha detto 10.29 La sua parola Grazie Adesso il Presidente ha detto 10.29 l'avete sentito anche voi Sì l'avete accettato È l'orario, se il Presidente non c'è non è Permettendo di entrare a dei prevolgatori Sì lei si è denuncia Buongiorno, sono le 10 e 30 Con cui buonazione in mandato Oh ma vergognati 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 Mambo Papatecivo ma vergognati ma mi sembra una votazione quella che è stata fatta mi sembra una votazione ma come fate a difendere questi qua? ma come fate a votare in questo mondo? come fate? ma come vanno a votare così? ma come fanno? ma come guardate i vostri figli stasera in faccia? vergognati i condannati fanno le leggi e poi sì tutti sì ma ditelo in giro quello che hanno fatto ditelo quello che hanno fatto perché il partito democratico non ha gli apprezzamenti della città lei è scoperto vada a dire che questo è scoperto è vero o no? lei conosce l'argentinia e la spettatura non è legittimo e allora lei che lo mette 5 stelle lo vada a raccontare al dovervi raccontare è detto nel PD è uguale ma non mi interessa mi dico andate a raccontare la verità non mi interessa